Musica Adesso sono con un amico della Grecia Mimo qui a metà Ponto è un filo di l'Eglia che mi chiede a dare il dico del caratterismo per tutto ciò che succede qui dare un saluto e spedire un messaggio in Grecia e come senti tu di fronte alla Grecia di fronte ai Greci come stanno se stanno con le Serenia e l'Eglia Dopo aver parlato dopo aver sentito il professor Fierro che rimarcava la grande cultura della Grecia siete stati i nostri oracoli io conosco questa bellissima questa bellissima nazione questo posto da oltre 30 anni è un popolo eccezionale una cultura grandiosa e amo tutto della Grecia oggi vivo anche un forte rammarico una grande negazione per il momento di grande difficoltà che sta vivendo questo grande popolo e gli errori di una classe politica voglio dire superficiale ha fatto sì che una grande nazione patisca delle sofferenze umane che non merita io mi auguro che questi incontri reciproci di cultura questa sera ci sono tanti politici ci sono tanti uomini di cultura possa unire e possa essere da viatico il nostro saluto perché questo grande popolo merita di più di quello che sta vivendo il mio augurio io oggi proprio parlando con degli amici ancora prima di venire qui per quanto amo la Grecia dissi una volta che se un giorno dovessi morire mi piacerebbe essere seppellito in Grecia perché la amo per davvero non so cosa dire davvero grazie di tutto stati bene ciao caro grazie ciao mio caro siamo insieme grazie va bene siamo insieme ciao grazie grazie grazie